Falso in bilancio e banca rotta fraudolenta, sono i reati che la terza sezione criminalità economica della Procura di Napoli contesta all'imprenditore Giancarlo Buontempo e al commercialista napoletano Umberto Scala, ai quali il nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha notificato gli arresti domiciliari. Le misure cautelari sono state notificate a Scala e Buontempo, quest'ultimo particolarmente noto in quanto assiduo frequentatore del Jet Set in relazione al fallimento di una società immobiliare costituita nel 2007 a Montalcino e partecipata in maniera quasi totalitaria da Buontempo, finalizzata alla costruzione e alla vendita di immobili. Nell'estate del 2010 la società, come altre amministrate da Giancarlo Buontempo, iniziava a maturare i primi debiti nei confronti dell'istituto di credito che aveva concesso consistenti finanziamenti per poi versare in un vero e proprio stato di insolvenza a partire da luglio del 2011. Secondo l'ipotesi accusatoria, i due indagati evitavano di avviare la fase di liquidazione della società, causando in questo modo un notevole incremento delle posizioni debitori e delle perdite. Nel provvedimento viene evidenziata la pericolosità degli indagati e l'attualità del pericolo di reiterazione di reati, anche perché dalla documentazione analizzata emergono altre società immobiliari toscane versanti in stato di crisi, inizialmente partecipate ed amministrate dall'imprenditore e poi da Scala.